Chiara, un istante fa hanno acceso la torcia della pace, la fiaccola benedettina, proprio qui davanti al grande murale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Questa immagine che tutti abbiamo imparato a conoscere quest'anno, la fiaccola benedettina che ogni anno sceglie una città europea, ha scelto proprio Bergamo, proprio in questa giornata di commemorazione. È stato un momento solenne quello che abbiamo visto questa mattina perché lo Stato era qui e si è fatto sentire il Presidente del Consiglio Draghi e il Sindaco Gori. Poche autorità perché siamo in zona rossa e perché ci sono le restrizioni Covid, quindi proprio lo stretto necessario, tutti distanziati. Prima un momento di raccoglimento al cimitario monumentale di Bergamo perché da lì partirono i camion militari con a bordo le 86 bare. Non ci fu solo quella giornata di un anno fa, continuarono anche poi negli altri giorni a partire perché non c'era più posto, non c'era più spazio dove custodire quelle bare e soprattutto bisognava aspettare settimane per una cremazione. Tanti erano i morti, tante erano le vittime. Il secondo momento solenne è stato invece al Bosco della Memoria che è proprio qui, a poche centinaia di metri dal Papa Giovanni XXIII. Il Presidente del Consiglio, insieme a Gori, c'erano anche tante altre autorità, c'era il Vescovo di Bergamo, c'era il Prefetto, il Presidente della provincia, c'era il Governatore della Lombardia Fontana. Hanno piantato un albero, simbolo di tutti gli altri, saranno 850 gli alberi che cresceranno in questo bosco. Era un tiglio questa mattina essere piantato e non sono alberi grandi monumentali, saranno tutti alberi piccoli, alberi padani, alberi di questo luogo importantissimi perché ciascuno significherà una di quelle vite che sono strappate a quella terra. Il Sindaco Gori ha detto che non abbia pianto e perduto qualcuno. Poi ha concluso il suo intervento il Sindaco dicendo che ti ricordi quella frase che tutti abbiamo visto appesa, che dava forza ai terrazzi di questa città. Grazie davvero per questo racconto a Emanuela Bonchino e Alessandro Fresilli.